Ehi la ciurma! Benvenuti a tutti in questo primo episodio, siamo qua in un mondo appena partiti, ci siamo solo incontrati, lui ha trovato della roba per strada e direi entriamo subito nell'aeroporto a fare qualcosa in modo da trovare degli oggetti. Adesso dobbiamo precisare una cosa, molto importante, in un'apocalisse di zombie siamo gli unici sopravvissuti, inoltre siamo anche tutti e due nudi, questa sarà più che altro una guida di come sopravvivere nudi all'apocalisse zombie. Ebbene, questo è molto grave, allora andiamo subito a cercare dei vestiti, io ne ho bisogno. Anche se così, posso spaventare i mostri, insomma, glielo sminiamo davanti, avranno un po' di paura. Eh ma in realtà, se noti siamo tutti e due, cioè siamo tutti assessuati perché non abbiamo nessun organo particolare. Oh c'ho della da bere, una mazza, prendo. Cos'è qua? Ah, magazine? Non ho ancora capito cosa servono i magazine, c'è una granata. Odè, mi ha colpito una volta. Oddio, 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 parami, parami. Ok. Sì, non ti preoccupare, qua c'è il... È tutto buio però qua. Non si vede un Kaiser. È stato di notte. Abbiamo disattivato il PvP, quindi non possiamo farci male, mi hanno colpito di nuovo. Almeno se ti colpisco non ti faccio male, vero? Meglio così, scusami, non devo... Vedo se trovo uno zaino. Ah, ci sono delle bende, io ne uso già uno. Oddio, non l'avevo visto. Poi i tuoi fan ti stanno seguendo. Eh, non ho neanche più spazio. Aiuto! Fan, aiutatemi. Perché non ci siete da difendermi in questo momento. Magari funziona come... Come si chiama? La ragazza di fuoco, una cosa del genere in cui ci sono... Ah, tutti... Gli sponsor che gli mandano gli oggetti. Gli Hunger Games, dici? Hunger Games, sì. Oddio, oddio, questa c'è una maglia arancione, la voglio. No, perché non droppano gli oggetti? Ma in realtà talvolta... Eh? Ogni tanto li droppano. Eh sì, però è molto raro. Tra l'altro dove sei? Ah, sei qua. Se ci mettiamo una cosa per la nostra nuova casetta... La casetta che andremo a prendere. Oddio. Ricordati che questi bastardi sono attirati dagli oggetti che posizioni tu. Sì, l'ho notato. Non cagano gli altri, ma se tu metti qualcosa per terra... Che cosa posso dire? Tipo bullismo vogliono distruggere tutto. Sì, sì, l'ho notato. Mi hanno distrutto delle casse un sacco di volte. Ho dovuto fare delle barricate intorno alle casse giusto per difendere delle casse. Prisca mi trovavo sempre gli oggetti droppati per terra. E poi il crafting non è mica così banale come potrebbe sembrare. Cioè nel senso... Hai un sacco di roba da... Ma perché ce l'ha con me e non con te? Ma dico, io. Però dovrei avere ancora delle medicine qua. Guarda che culo che abbiamo. Wow, ho scoperto... Gli antibiotici... Gli antibiotici danno... Il generatore, non ci credo. Prendilo tu che hai più spazio. Sì, perché ho trovato un lozenico. Questo ci serve. Ci trovo delle lampade... Ho un elmetto da minatore qua. Prendilo. Troviamo delle casse. Lo equipaggio. Sì, non delle casse. Fa luce? Sì, fa luce! Spettacolo! Comunque, stavi dicendo delle casse? No, delle casse, scusami. Se trovi le lampade, ce le portiamo via così possiamo illuminare casa nostra. Ah sì, sì, abbiamo il generatore adesso. Però io prima di tutto avrei bisogno di uno zaino, assolutamente. Assolutamente. Anzi, ti do una botta in testa e te la rubo. POM! POM! L'aereo non si può rubare, vero? Peccato. Tipo per fuggire da questo mondo malato. Siamo anche in un mondo malato canadese. Canadese? C'è una... In serio? C'è una sega qua. O te, o te, credevo fossi tu, credevo fossi tu. Io sono... È vero. Comunque... Oh, c'è una... Una tannica di benzina. Sì, è la quarta, che trovo. Sì? Beh, tienitene solo una o due. C'è un berretto, lo vuoi prend... Ah, l'hai preso, bravo. Sì. No, sono nudo con un poncio e il berretto. Io peggio, c'ho solo il casco da minatore. Un'altra arma, ne serve un... Ma non vedo un Kaiser, dove sei? Dove sei andato? Sei tu? Ah, ok. Mi fai prendere un infarto tutte le volte. Adesso seguimi, io devo andare per forza nell'altra tenda a curarmi, che ho il 50% di vita. Eh, ma non so se ci sono ancora oggetti, là, eh. Sulla seconda, sì. Tu hai depredato una. Ah, ok. Perché io ho usato tipo tutto, mi è rimasto solo quello contro le radiazioni, diciamo. E tra l'altro ho scoperto che gli antibiotici tolgono anche le radiazioni, oltre che a curare. Fanno tutte e due. Sì. Ma non solo gli antibiotici. Anche cos'altro? Anche le valigette dei medikita. E le siringhe, alcune siringhe. Non l'abbiamo trovato. Però è bello, eh. Da perfetti di toccarti, questi qua si fanno l'iniezione sull'alice. No, sull'alice. Sul pollice. Se vedi, proprio sul pollice si fanno i... Attento, ma... E cos'è, ti fai le iniezioni mentre ti attaccano? Stavo cercando di... Aumento le skill, tra l'altro, intanto. Mi metto più survival, perché ne ho bisogno adesso. Metto due livelli di survival. E mi avanzano 20 punti. 20 punti li metto in... Crafting? Ah, me ne servono 50. Ora me li tengo da parte per il crafting. E tu quanto sete hai? 32 e 29. Aspetta, prima di entrare... No, ma di sete dico, non di fame. 32 o 29? 34. Ahio, mi ha fatto male, sto scemo. Vabbè, ora siamo più o meno uguali. Mi bevo io la Coca-Cola. Sì, bevi, bevi. C'è qualcuno da fuori? No? Ora possiamo entrare tranquillo. Una mezza da golf. Parte forse a giocare con le teste di... ...morti. Golf col morto. Non ho capito niente. Ah, giocare a golf col morto servono. Dove è andato? Oddio. Ma non ce ne è con lo zaino da ste parti? C'è una lattina. Tu hai capito cosa servono le lattine? Penso che servono ad essere riempiti di acqua. Eh, ma... No, quali sono le... ...le borracce? Ma mi pare che forse puoi craftare le borracce con... ...uno zombie. Dico, magari anche col cibo. Sai che ci sono i charbi? Quelli inavvicinabili. Sì, sì, lo so. Ma non è che sono inavvicinabili. Perché sono inavvicinabili? Perché io ho una mira del cavolo. Ah, ma li puoi tirare giù con la macchina? Se vai abbastanza veloce. Però le macchine vanno a 50 all'ora. Sì, ma non è così difficile. Dobbiamo... Se troviamo la... Dove hai rilasciato la macchina? Dove hai parcheggiato? Le avrai rilasciato di sicuro in doppia fila. Troveremo la multa. Scusa, ho trovato quattro anni che divino. E lo so, ma c'erano solo due macchine fumanti qua fuori. Bisogna sperare che non ce l'abbiano perquisite. Sandbags. Ah, i sandbags sono quegli affari per fare le barricate, tipo. Sì. Ma di là abbiamo esplorato tutto? Sì. Di qua da dove siamo arrivati? Ah, vabbè. Anche se... Puoi guidare tu? Ma no, guida tu. Io faccio il passeggero. Ah no, ma sono solito io. Guida tu. Cosa è benzina? Non lo so. Sì, 15%. Secondo me non metterne altra. Perché tanto è mezza rotta. Eh, sono il passeggero. Oh, dai. Oh. Ce l'ha distrutta. Le zombie ammanate le distruggono le macchine. Ma mi ha fatto pure un danno bestia. Prendiamo questa. Esplose, prendiamo questa. Io vado dietro. No, non posso andare dietro. Sì, vado dietro. Oh, ho. Faccio il passeggero. Come se fossi in un taxi. Posso guidare queste macchine quando stanno... C'è troppo fumo qua dietro. Anche davanti. Si vede un Kaiser. Penso a guidare. Ma stai guidando tu, non sto guidando io. Posso godermi il panorama. Perché il panorama ti godi... Dal finestrino laterale comunque non si vede il fumo. Quindi guardo di lato. Tanto non patisco la strada. Non ti preoccupare, tu patisci. Che non voglio che mi vomiti in macchina. Dove? La benzina. No, abbiamo finito gli zombie. È venuto... Ci ha fatto esplodere pure quello? Ma che barba. Beh, siamo quasi in città. Oggi è che ci sono degli zombie là davanti. Ma io avevo l'elmetto, scusa. Che fine ha fatto? Perché non illumina? Ah, si illumina, ma poco. Perché illumina? Cioè, ci vedo già niente con elmetto. Ah, guarda questo. C'è un minatore del Kaiser. Là ce n'è un orb... Oh, ce n'è tre qua. C'è la famiglia. No, erano 4, 5. Quanti erano? 4. Ho il 50% di vita, tra l'altro. Questa macchina ha benzina? Sì, facciamo una strage? Eh, non... Vai, vai. Tu vuoi provare. Stanno proseguendo. Oh, dai! Ce li ho tutti addosso, dove sei? Sì, sei stato in avanti. Sto arrivando, stai qui. Ah, eccoti, ok. Speravo di tirarne giù qualcuno, ma non ne ho incontrati per la strada. Entriamo subito nelle casette. Ah, qua è la casetta dell'altro episodio, eh? Sì, vabbè. Stiamo barrando. C'è addirittura una scaletta già posizionata. È vero. Ho trovato una torcia. La posso dare a te, visto che tu non hai l'elmetto. Ho già la torcia, ma io non la uso perché non posso usare un'altra arma con la torcia. Sì, no, ho capito, ma quando ti vuoi spostare, magari. Ce l'ho già. Abbiamo bisogno di cibo adesso. Sì, sto solo posizionando sto generatore in modo tale da non portarcilo dietro. Ah, lo posizioni dentro casa? Sì, guarda, vuoi vedere dove l'ho messo? No, sto esplorando perché ho bisogno di cibo. Oh, ho trovato... Ah, non ho spazio. Cosa butto? Butto questo. Butto la torcia, se tu non la vuoi. Però già di base la torcia. Ci sono delle robe andate male. Ma tra l'altro qua non si può coltivare, scusa. Può coltivare. In che terreno, scusa? Qua non abbiamo il terreno terrenoso. Guarda, sono più vestito adesso. Ci sono delle barricate di legno qua, le possiamo posizionare, che dici? Sì, le prendi, le prendi, le rendiamo la figa sta caspita di casa. Io vado... Dove le mettiamo? Eh, sulle... Le finestre, insomma. Ok, allora salgo, le metto davanti le finestre. Sì. Così vedi anche dove l'ho posizionato... ...el generatore. L'ho visto, l'ho visto... ...e... ...è una posizione tattica quella. Perché... ...dato che a noi serve illuminare la casa, l'ho messo qua, così è fuori dalle scatole. Possiamo anche... ...posizionare delle luci. Aha, non ho capito niente. Praticamente, in quella posizione lì, è quasi al centro della casa e possiamo posizionare i lampioncini... Ah, ho capito. Guarda, almeno una macchina sana c'è. Sì. Ah sì. Ok. Dobbiamo trovare cibo, sennò qua moriamo. Ah, assolutamente. Ho trovato un altro shield qua. Ce n'è qua di cibo. Dei buckshot, ma... Ti stai inseguendo qualcuno. Dove? Io c'ho un poncio, mi metto il poncio. Ah, no, non ho spazio. Quindi, andiamo in un'altra città. Ma no, ho bisogno di trovare qualcosa. Perché dobbiamo abbandonare questa? Perché qua di cibo c'è tutto mar... C'è cibo solamente mar, c'è tutto quello che so. Ma dipende da cosa trovi, eh. Cioè, nel senso... Ogni volta cambia. Tipo, ho trovato un Apple Juice Box, hai sete tu? Io ho 38%, quanto hai sete hai? 60. E bevi, allora. Ce n'è un altro qua dietro? Delle frecce, una carota andata male. Della stoffa... Però non so se ci conviene andare nelle stesse case. Nel senso, esploriamo più in fretta se uno va in una e uno va in un'altra. Hai ragione. Oh, dai! Credevo fossi tu. No, io sono andato. Ma non mi ha fatto niente. Eh, lo so, mi è arrivato di lato. C'è un fucile, ma non... Non posso tenerlo. Qua c'è... Del mais è andato male. E io non mi ricordo neanche cosa... Oh, dai! Sono al 40% di vita! Mi ha aggredito di sorpresa! Oh, sta arrivando il giorno. Qua c'è il parco giochi, cos'è? Se ci conviene andare in un'altra città, perché questa... Ormai l'abbiamo finita. Ne ho prendo la macchina. Tu c'hai benzina? Quella c'ha benzina. Non ci interessa di c'ha benzina. Tanto noi abbiamo quattro tanige. Il petrolio! Quanti slot hai con quello zaino? Slot in più di te. E basta. No, due. Ha due file, diciamo. No, due fili in più. Eh, due file in più. Zero benzina. Vabbè, tanto adesso. Ha solo due posti, però, sta macchina. E se dovessimo accompagnare delle ragazze a casa? Delle zombesse, vorrei dire. No. Magari possiamo purificarle, non lo so, non c'è. No, eh. Ah, dici che un po' di acqua e un po' di olio di gomito vanno via tutto? Ma sì, dai. Sai con quei trucchi là che si fanno con i cetrioli in faccia? Però in effetti potrebbero esserci delle ragazze. Guarda qua, che posteggio artistico. Hai ragione, hai ragione, di sicuro. È stata una ragazza. Però adesso da zombie sono tutti uguali. Nel senso, come fai a capire se è una ragazza o meno? Sono tutti piatti con gli zombie. Sì, ma anche tu sei piatti. Ecco, appiattifica né un'altra. Eh, ecco, bravo. Operazione appiattisci gli zombie. Yeah! Ma guidi fuoristrada, non sai guidare. Perché guidi a sinistra? Non prendere il palo? Ehi! Perché parcheggi in periferia? Ma no! Mi hai lasciato con tu. Io posteggio in periferia perché le macchine fanno casino. Sì, hai ragione. Mi hai lasciato da solo. Ce n'hai uno dietro. Tranquillo, tranquillo. Il casino di essere due è che bisogna smezzarsi qui le risorse. Qua abbiamo bisogno di trovare cibo. Qua mi pare che ci fosse il negozio di cibo. Food, mister food. Qua, questa è la città dei miei raccordi perché è pieno. Il martello qua. Uh, delle luci ci sono qua. Però non ho spazio per prenderle. Anche io mi metto l'esercito. Attento, attento, attento. A cosa ha dato una torcia? Vabbè, io ce la metto. Anche io adesso non sono. Qual bar? Oddei. I vigili del fuoco. No. Sono morto. Morto? Sì, non so neanche dove sono. Tra l'altro siamo quasi a 20 minuti. Credo che forse sia meglio staccare qua con questo episodio. E ci ritroviamo mentre siamo off camera. Ok, io ti ritengo le cose. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.